Autorità, colleghi o gentili ospiti, a inizio la cerimonia di conferimento della laurea onoris causa alla scrittrice Giun Palahiri. È un grande onore per noi avere all'università per stranieri una protagonista della letteratura contemporanea. È un grande onore perché l'oggetto e la missione specifica del nostro Ateneo riguardano il contatto fra l'italiano e le altre lingue e culture, cioè l'impegno a porre le condizioni perché persone con lingue e culture diverse si possono incontrare, possono entrare in contatto e dialogare. I valori fondativi del nostro Ateneo sono i tratti distintivi della vita e delle opere di Giun Palahiri, una scrittrice nomade in oscillazione continua fra due lingue e due culture e che ha scelto di aggiungere un nuovo polo a questa migrazione linguistica, la lingua italiana. Ha raccontato in un bellissimo volume la fatica di approdare a un nuovo codice espressivo attraverso una delle abilità più complesse, cioè la scrittura. Per questo suo essere pellegrina linguistica noi siamo molto onorati di averla qui con noi e di poterle conferire la laurea honoris causa. Lascio quindi la parola al professor Pietro Cataldi che ci riferirà le motivazioni per le quali il Dipartimento ha deciso di conferire questa laurea. Due ore fa Giun Palahiri è stata studentessa con gli studenti in un dialogo, ora stiamo per conferirle la laurea e su proposta unanime del Dipartimento di Ateneo per la didattica e la ricerca e su delibera unanime del Senato accademico e sulla base della normativa vigente viene conferita la laurea honoris causa in lingua e cultura italiana per l'insegnamento agli stranieri e per la scuola alla scrittrice Giun Palahiri per aver pubblicato una serie di importanti volumi in lingua inglese ottenendo con l'interprete dei Malanni il premio Pulitzer per la narrativa e per aver scelto di utilizzare la lingua italiana descrivendo magistralmente il suo percorso di apprendimento della lingua in articoli apparsi sulla rivista internazionale e ora raccolti nel volume in altre parole. Grazie. Invito la professoressa Tiziana De Rogatis a tenere la laudazio. Autorità e pubblico presente magnifica rettrice colleghi personale amministrativo studenti ho l'onore di motivare le ragioni del conferimento della laurea honoris causa alla scrittrice Giun Palahiri l'università per stranieri di Siena vede in questo conferimento la sintesi delle proprie identità dei propri percorsi è un rito cui il nostro Ateneo partecipa con gioia perché in esso e nella scrittrice cui è destinato il conferimento questa comunità si riconosce profondamente la nostra laurea honoris causa è il primo titolo italiano per una scrittrice che di titoli accademici ne ha molti e prestigiosi Giun Palahiri si è laureata in letteratura inglese al Barnard College di New York ha poi conseguito all'università di Boston un master in scrittura creativa e uno in letterature comparate infine ha un PhD in Renaissance Studies studi del Rinascimento per capire il significato di questa sua formazione ascoltiamo le parole di Nathaniel Hawthorne un grande scrittore dell'Ottocento che rappresenta la più alta tradizione narrativa americana Giun Palahiri ha posto questa frase in epigrafe alla sua seconda raccolta di racconti e a questa epigrafe la raccolta deve il suo stesso titolo Unaccustomed Earth una nuova terra ecco le parole di Hawthorne la natura umana si rifiuta di fiorire se piantata e ripiantata per un susseguirsi troppo lungo di generazioni nello stesso suolo eccessivamente sfruttato i miei figli sono nati altrove e nella misura che la loro fortuna potrà dipendere da me affonderanno le loro radici in una nuova terra nuova terra Unaccustomed Earth dove la traduzione dell'aggettivo Unaccustomed non dovrebbe limitarsi solo al significato di nuovo dato che in inglese Unaccustomed è ciò che è Unaccustomed non abituale non consueto ciò che è strano Giun Palahiri è proprio una delle figlie di Hawthorne ha messo le radici in questa terra strana quindi nuova che sono gli Stati Uniti una terra di immigrati una terra che è prosperata proprio grazie ai continui trapianti da altri popoli La storia di Giun Palahiri fa parte della grande diaspora dell'India della migrazione che ha fatto spostare in tutte le parti del globo più di 15 milioni di persone La Iri nasce da genitori bengalesi il Bengala è una grande regione dell'India occidentale ma non nasce a Calcutta la capitale del Bengala bensì a Londra quando è ancora piccola la famiglia si trasferisce da Londra al Rhode Island negli Stati Uniti prende così forma per lei un destino particolare che la comuna d'altra parte ha milioni di persone nel mondo globalizzato di oggi persone che vivono o che hanno vissuto nella sua stessa condizione di immigrati di seconda generazione La Iri cresce in America ma la sua famiglia rimane strane alla cultura americana come molti immigrati di prima generazione i genitori di Giun Palahiri vivono in una sorta di esilio emozionale il loro cuore è rimasto a Calcutta ma il loro corpo in America in famiglia la loro lingua pronuncia discorsi in bengalese una delle lingue dell'India ma i loro orecchi ascoltano tutto intorno il suono di un unaccostum language il suono della lingua strana che è l'inglese per la Iri questo significa vivere tra due mondi ma non provenire veramente da alcun posto significa sentirsi sempre e in qualunque luogo anche a Calcutta anche nella propria stessa casa in America straniera a metà strada tra il turista e il cittadino significa vivere insomma ai margini sempre spaisati sempre inseguiti da un'ansia di collocazione è questo l'oggetto della sua scrittura la storia degli indiani immigrati in America la storia della prima e della seconda generazione trapiantata tra gli anni sessanta e oggi e anche la storia delle differenze tra la prima e la seconda generazione la formazione culturale di John Palahiri si basa su una profonda conoscenza della cultura di area anglosassone angloamericana si basa direi anche perfino su una devozione nei confronti di questa stessa cultura contemporaneamente però la sua opera così centrata sui temi della migrazione diventa un punto di riferimento per gli studi postcoloniali per quelle teorie cioè che descrivono e interpretano le condizioni esistenziali politiche culturali che si sono verificate dopo la fine del sistema coloniale nei paesi colonizzati e nei paesi colonizzatori tuttavia John Palahiri non ha mai condiviso la radicale contestazione espressa dagli studi postcoloniali verso il canone culturale occidentale accusato di essere il canone dei colonizzatori la sua attenzione alle forme espressive la sua indiscutibile tecnica letteraria assimilata proprio anche dalla tradizione occidentale fanno sì che la sua scrittura sia uno straordinario amalgama di mondi di lingue di punti di vista diversi la Iri ha messo insomma le sue radici in una terra quella americana che però rimane sempre nuova sempre strana che può essere sempre vista attraverso gli occhi di una nomade la sua creatività è un'amalgama un'amalgama capace di superare etichette e barriere ideologiche facendo di questa scrittrice uno dei casi più rappresentativi oggi della world literature una letteratura mondiale che fiorisce oscillando fra confini nazionali e contesti globali tra un uso sapiente e concentrato delle tecniche espressive ereditate dalla tradizione occidentale e un'apertura alla molteplicità dei destini umani dispersi sulla terra una letteratura che universalizza i temi specifici della migrazione e del multiculturalismo collegandoli alle forme e ai temi della grande mutazione moderna delle identità e più oltre alla complessità della condizione umana una letteratura che non si impoverisce ma si potenzia attraverso i travasi e i passaggi delle traduzioni una letteratura infine che ridefinisce il rapporto tra centro e periferia e fa della periferia un nuovo centro una letteratura che parte di un più ampio fenomeno attuale quello che Martha Nussbaum tra gli altri ha chiamato cosmopolitismo radicato rooted cosmopolitanism anche l'università per stranieri è protagonista di questa tendenza in atto anche noi siamo parte di questo rooted cosmopolitanism di questo cosmopolitismo radicato siamo figli di Siena profondamente legati alla vita e all'antropologia di questa città ma siamo anche proiettati in una dimensione internazionale che la presenza stessa dei nostri studenti qui in questo momento studenti sia stranieri sia italiani testimonia l'università per stranieri di Siena considera esemplari la vita e le opere di Giun Palairi perché entrambe sono profondamente collegate ai nostri valori fondativi lo scambio il contatto la relazione il rispetto reciproco sono valori che la nostra università pratica e li pratica quotidianamente attraverso l'insegnamento la ricerca l'elaborazione continua di progetti e di collaborazioni vorrei ora ripercorrere brevemente con voi le tante metamorfosi della scrittura di Giun Palairi che ha creato finora due raccolte di racconti e due romanzi in lingua inglese e un diario in italiano le due raccolte di racconti si intitolano L'interprete dei malanni Interpreter of maladies uscito nel 1999 e Una nuova terra come dicevo già prima Unaccustomed Earth del 2008 i due romanzi sono l'omonimo The Namesake del 2003 e La Moglie The Lowland letteralmente La Spianata il titolo italiano quindi non traduce l'originale ovviamente The Lowland è del 2013 mentre il diario italiano uscito nel 2015 tre mesi fa si intitola In Altre Parole Rievocando il tanto amato poema di Ovidio sulle trasformazioni la scrittrice ha sottolineato che la metamorfosi questo processo sia violento che rigenerativo questo mutamento in cui si mescola sia una morte che una nascita sono sue parole questa metamorfosi è una parola chiave per la sua poetica attraverso la metamorfosi nei propri personaggi La Iri ha potuto evadere da se stessa ha potuto sottoporsi ancora parole sue ad una mutazione dopo l'altra risarcendo così quell'assillante senso di imperfezione che le deriva dalla sua identità nomade ma la metamorfosi è anche il destino di tutti i suoi personaggi il titolo della sua prima opera la raccolta di racconti l'interprete dei malanni insignita nel 2000 del premio Pulitzer il più alto riconoscimento per uno scrittore americano allude proprio ad una forma peculiare di metamorfosi di trasformazione il travaso il passaggio la versione da una lingua all'altra il signor Capasi il protagonista del racconto eponimo che dà il titolo alla raccolta protagonista di un racconto ambientato in India ha sognato in gioventù di diventare un traduttore ma nella sua vita adulta il sogno è tramontato ne sopravvive solo una variante impoverita oltre ad essere un tassista il signor Capasi come secondo lavoro fa infatti il traduttore ma in uno studio medico media cioè la comunicazione tra un dottore e i suoi pazienti che parlano il Gujarati una delle lingue dell'India ma il signor Capasi si trova ora nel corso del racconto l'interprete dei Malanni a dover mediare a dover interpretare un Malanno molto meno sanabile quello del vuoto di valori in cui vive la famiglia di indiani americani di turisti ormai estranei all'India che sta trasportando sul suo taxi e torniamo alla metamorfosi la metamorfosi è anche il passaggio da un luogo all'altro i racconti dell'interprete dei Malanni spaziano dagli Stati Uniti all'India da Boston ad Assansol da Calcutta a Hereford e il movimento vorticoso si estende anche alle altre opere di Jun Palahiri ambientate tra New York e Seattle Cambridge e Weyland Londra e Harvard Roma e Kaolak una località marina in Thailandia Toligunge un quartiere di Calcutta e il Rhode Island Cleveland e Parigi la metamorfosi il viaggio la metamorfosi è anche il cambiamento del nome voluto ostinatamente dal protagonista del romanzo l'omonimo deciso a liberarsi del nome troppo insolito che il padre gli ha attribuito in virtù del suo amore per la letteratura russa il giovane Gogol avvia una pratica legale per diventare Nikhil il nome di origine indiana significa colui che è completo colui che comprende tutto ma una facile assonanza lo collega anche alla parola latina Nikhil nulla tuttavia dopo la morte del padre e dopo il fallimento del proprio matrimonio Gogol riuscirà a capire il senso così profondamente affettivo della scelta onomastica paterna riuscirà finalmente a raccogliere l'eredità paterna in questo caso allora la vera metamorfosi la vera completezza di Nikhil sarà recuperare la memoria delle parole parole pronunciate dal padre al termine di una passeggiata quando Gogol era ancora un bambino ecco le parole ricorda che io e te siamo arrivati fin qui ricorda che siamo andati insieme in un luogo oltre il quale non si poteva andare la metamorfosi è l'autodeterminazione con cui una persona sceglie per sé una nuova vita anche a costo di imporre agli altri questa sua brutale volontà è il caso di Gow scusate è il caso di Gowry la moglie del romanzo omonimo che si intitola La moglie Gowry abbandona il marito e la figlia per vivere una vita dedita alla ricerca intellettuale e alla solitudine Gowry vuole generare cito le parole di Jumpa Lairi altre versioni di se stessa altre versioni di se stessa preservando in quella perseverando in quella metamorfosi a costo di brutali conseguenze è proprio la frase di Gowry tuttavia anche in questo romanzo La moglie la parabola narrativa mostra che l'energia trasformativa più radicale è quella che include insieme alla volontà le emozioni e con le emozioni i bisogni più fragili in un romanzo storico La moglie fondato sull'esclusione reciproca di un nucleo familiare in cui cioè ciascuno esclude l'altro in nome di un'ideologia in nome di una fuga in America in nome di un amore troppo idealizzato in nome di un segreto in questo romanzo dicevo spetterà a Bella e a sua figlia che non a caso appartengono alla terza e alla quarta generazione il compito e la prerogativa di sanare queste separazioni di riconoscere faticosamente l'altro la vera metamorfosi la trasformazione è il segno del tempo che si imprime ovunque prima di tutto negli spazi che accolgono le narrazioni nella trilogia finale della seconda raccolta di racconti scritta da John Palahiri Una nuova terra la collocazione in un nuovo paesaggio dei due protagonisti Emma e Koshik consente loro di vivere una esperienza d'amore questa trilogia finale dipana la loro storia dall'infanzia fino alla vita adulta i due bambini legati dall'amicizia delle loro famiglie emigrate a Cambridge sono segnati da un'affinità elettiva ma la vita li separa la vita sembra smentire questa ipotesi la loro storia d'amore potrà sbocciare solo grazie ad un incontro casuale a Roma questo luogo saturo di passato è uno spazio le cui rovine permettono di ancorare per un breve periodo le due identità liquide sradicate di Emma e Koshik l'Italia è il luogo che consente a Koshik di elaborare la morte della madre dando metaforicamente corpo e peso alle ceneri fluttuanti di lei disperse nel mare come vuole il rito hindù ma dal punto di vista del figlio perdute per sempre perdute per sempre in quella dissipazione dello spazio che è il destino di ogni diaspora l'Italia è allora il luogo che dona Koshik un'archeologia delle emozioni attraverso la rielaborazione della perdita in questa geografia raccolta misurabile densa di significati la geografia del nostro paese l'Italia sarà finalmente possibile per il protagonista aprirsi all'amore verso Emma il paesaggio italiano insomma sembra suggerire che le esperienze di vita non sono solo adattamenti più o meno dolorosi ma sono anche esperienze estetiche profonde esperienze estetiche che distillano attraverso la bellezza un senso dello spazio un senso della storia e quindi dell'appartenenza e del radicamento nel presente nel qui e ora dalla metamorfosi discende anche la continua messa a fuoco degli sguardi dei punti di vista la voce narrante si focalizza instancabilmente sui dettagli d'ambiente visti di volta in volta attraverso lo sguardo di uno dei personaggi qualcuno che non è vicino a quel mondo non è vicino a quel mondo perché non riesce a comprenderlo o non vuole comprenderlo lo straniamento e lo stupore sono quindi le qualità le qualità di questo sguardo in un gioco di riflessi grazie al quale l'India è distorta e illuminata dal punto di vista dell'America e viceversa così come la prima generazione di immigrati è fraintesa ma anche incalzata dalla seconda generazione e viceversa prende forma in questo modo un gioco pluriprospettico articolato magistralmente da una scrittura della chiarezza nella complessità ovviamente non esiste cioè un'alterità giusta e un'alterità sbagliata Giun Palahiri mette in forma una visione della diversità che si oppone sia al relativismo sia all'esotismo le differenze hanno una consistenza tale da non poter essere addomesticata dagli stereotipi il montaggio delle scene fa sì che il lettore si senta nomade si senta spaisato tra i vari punti di vista si senta cioè come i protagonisti delle opere di Giun Palahiri non esistono insomma tradizioni positive e modernità negative e viceversa o viceversa perché siamo tutti parte di un grande motore della metamorfosi nella storia della modernità e questo messaggio decisivo per tutti noi direi è incarnato nella chiarezza visiva dei tanti dettagli incongrui dei tanti punti di vista il messaggio non è mai pronunciato esplicitamente ma è concretamente vissuto attraverso la lettura delle opere dovete leggere di Giun Palahiri la sua scrittura mette in forma un soggetto disorientato è vero tuttavia mai nichilista né tantomeno autoritario i suoi personaggi perseguono sempre un desiderio di stabilità ma quella che indicano è una strada da percorrere non una meta sicura la loro prospettiva sempre duplice è quella di chi sperimenta sì l'abbandono nell'immanenza ma intravede anche all'interno della vita ordinaria l'auspicio di un futuro autentico di un futuro buono tre anni fa una nuova metamorfosi la IRI ha scelto di vivere in Italia questa nuova metamorfosi ha deciso di vivere stabilmente nel nostro paese e ha scelto di scrivere e pensare e leggere e parlare nella nostra lingua quindi dal centro del massimo sistema comunicativo quello dell'inglese la IRI è andata verso una periferia cioè il mondo e la lingua italiana rendendola centrale sovvertendo le gerarchie mostrando come la nostra lingua la nostra cultura siano prima di tutto patrimonio dell'umanità siano parte di quel cosmopolitismo radicato di cui parlavo all'inizio da questa esperienza italiana è nato un diario in altre parole pubblicato tre mesi fa in questo diario Giun Palairi parla proprio del suo lento percorso di apprendimento della lingua italiana è un percorso in cui si mescolano in antitesi continuamente innamoramento ed estraneità conquiste perdite fiducia e disperazione questa lingua nuova è per la IRI una vita nuova in essa trova trova finalmente proprio come Emma e Koshik una appartenenza nel presente un diverso bilancio del passato un senso del futuro l'italiano è per lei la lingua del desiderio la lingua della libertà anche della libertà di sbagliare questa lingua del desiderio ridisegna ridefinisce rielabora il suo rapporto con le due lingue del destino familiare e sociale il bengalese e l'inglese sono le lingue che Giumpalairi non ha scelto ma da cui semmai è stata scelta è stata chiamata a vivere il triangolo nato dall'opposizione e dalla convergenza di queste tre lingue crea finalmente una figura geometrica laddove prima esisteva solo una dualità la dualità tra il bengalese e l'inglese proprio a questa prospettiva di inclusione e confronto guarda e guarda con profonda condivisione l'università per stranieri di Siena che ha sempre fondato la propria identità sul nesso che lega l'insegnamento dell'italiano alle altre lingue e alla comunicazione interculturale ma se l'incontro con la lingua italiana è raccontato come una tensione squisita sono parole di Giumpo e Lairi come un colpo di fulmine ancora sue parole perché Lairi colloca al centro e alla fine di in altre parole due racconti complessi due racconti problematici due racconti malinconici lo scambio e penombra due racconti che parlano cioè del lato oscuro di questa esperienza di amore e volizione perché provo a trovare una risposta forse perché una nomade che trova nell'italiano una seconda lingua madre sa anche che ogni metamorfosi implica necessariamente anche una perdita ogni nuovo amore un oblio di parti di sé forse ancora provo a trovare una risposta perché la lingua è il taglio è l'evento che umanizza la vita ma è anche il luogo di una espropriazione della vita non sancisce solo una inclusione ma porta con sé anche una distanza la sua ambivalenza consiste nell'essere al tempo stesso un dono e una rapina anche di queste parti d'ombra anche di questo saper raccontare il disagio della civiltà anzi anzi direi il disagio delle civiltà anche di questo siamo grati aggiungo la Iri e le siamo grati più che mai in questa aula magna di un'università profondamente radicata a Siena della metafora che ha evocato per raccontarci l'inizio di questa sua avventura di questo viaggio verso l'Italia nel momento in cui la Iri decide di venire a vivere a Roma sei mesi prima del suo arrivo celebra un vero e proprio rito di rinuncia rinuncia a leggere libri in inglese e da quel momento proprio come in un'iniziazione monastica svuota la propria scrivania e la propria vita in qualche modo si circonda da quel momento solo di scrittori italiani solo di romanzi italiani sceglie è questa la metafora di cui parlavo di diventare una pellegrina linguistica è una metafora che emoziona profondamente noi tutti in quest'aula perché ci ricorda che la via del pellegrinaggio mediovale la via francigena passava e passa ancora per Siena e che quindi Siena era ed è anche oggi anche in questo momento luogo di transito luogo di accoglienza luogo di riconoscimento dei pellegrini cioè degli stranieri in cerca di un senso questa sera siamo parte anche di un grande percorso di costruzione dell'identità pubblica femminile associerò ora due dati che possono sembrare distanti tra loro ma non lo sono ecco il primo in una intervista del 2011 Jun Palahiri ricordava che i nomi incisi sulla facciata della prestigiosa Butler Library della Columbia University sono solo nomi di scrittori e di filosofi maschi ecco il secondo dato la nostra magnifica rettrice una rettrice che ha fortemente voluto questa laurea onoris causa è una delle sei rettrici italiane sei rettrici a fronte di 81 rettori sono davvero troppo poche allora di questo percorso di costruzione dell'identità pubblica femminile fa parte anche questa cerimonia che vede una grande scrittrice insegnita da una magnifica rettrice e più umilmente ne ha fatto parte anche la mia voce che ha avuto l'onore di rappresentare la condivisione dei colleghi del personale e degli studenti di questo nostro Ateneo grazie a questo punto invito la scrittrice Giun Palairi ad avvicinarsi al leggio per tenere la sua lexio magistralis Buonasera sono profondamente onorata di ricevere questa laurea che rappresenta il coronamento di una di un lento percorso di apprendimento della lingua italiana che ha cambiato proprio il panorama della mia vita un riconoscimento molto emozionante per me vent'anni fa il mio pellegrinaggio italiano è iniziato proprio qui sono stata a Firenze per una settimana ma ho visitato anche Siena e oggi ci sono tornata all'epoca volevo soltanto capire la lingua che mi circondava ne sono rimasta incantata non avrei mai sognato questa questa occasione un'occasione così bella come questa e quindi grazie a tutti grazie all'università per stranieri di Siena grazie a Tiziana per la bellissima laudazio e alla gentile rettrice a tutti qui ho preparato un discorso mi appresto a leggerlo stranamente in sintonia con varie cose già menzionate quindi sarà interessante mi ha colpito molto il discorso di Siena allora il discorso è intitolato si intitola tre ultime metafore come mai l'italiano da quasi tre anni da quando mi sono trasferita dagli Stati Uniti a Roma cerco di rispondere a questa domanda avevo studiato l'italiano per molto tempo da lontano senza aver mai vissuto in Italia il desiderio di parlarlo ogni giorno di sprofondare in un nuovo idioma di incontrare nuova gente una nuova cultura mi ha condotta qui una volta arrivata non volevo altro che esprimermi in italiano quanto più spesso possibile ma ogni volta che aprivo bocca mi veniva chiesta sempre la stessa cosa come mai tu parli la nostra lingua provavo a spiegare dicevo che avevo studiato l'italiano per passione che sentivo il bisogno di avere una relazione con questa lingua dicevo che avevo imparato a parlarlo in modo elementare grazie a una serie di insegnanti privati a New York dato che ho fatto tutto questo per scelta senza alcuna esigenza pratica senza alcun legame ovvio familiare personale professionale questa mia spiegazione non bastava mi dicevano sei nata a Londra cresciuta in America di origine indiana scrivi libri in inglese che c'entra l'italiano più spiegavo più quelli che incontravo a Roma persistevano incuriositi un po' stupefati ma come mai se nessuno si aspettava che io parlassi l'italiano io non mi aspettavo la domanda benché sia una domanda ragionevole mi metteva un po' sulla difensiva come mai avrei voluto chiedere a chi mi interrogava mi devo giustificare in realtà non riuscivo a rispondere alla loro domanda perché non l'avevo mai fatta me stessa non pensavo che la mia crescente dedizione verso la lingua italiana fosse qualcosa di particolare prima di venire in Italia non mi ero mai soffermata su che cosa significasse mi interessava più il come che il perché come parlare meglio la lingua come appropriarmene è stato a Roma dunque che ho iniziato anch'io a chiedermi come mai l'italiano ho scritto il mio ultimo libro in altre parole per dare una risposta definitiva sia agli altri sia a me stessa è nato dalla mia scoperta di essere una scrittrice senza una vera lingua madre cioè di sentirmi dal punto di vista linguistico orfana ma questo libro che ho scritto direttamente in italiano complica considerevolmente la situazione negli ultimi tre mesi da quando è stato pubblicato in Italia sono interpellata con frequenza anche maggiore in maniera sempre più incalzante come mai l'italiano mi chiedono amici giornalisti scrittori lettori editori italiani americani tutti ora mi rendo conto che il desiderio di imparare una lingua straniera è considerato qualcosa di ammirevole virtuoso ma quando si tratta invece di scrivere una nuova lingua cambia tutto questo desiderio è percepito da alcuni come una trasgressione un tradimento una deviazione quello che ho fatto distaccandomi improvvisamente dall'inglese passando precipitosamente all'italiano tende a innescare resistenza diffidenza dubbi tutti vogliono capire la genesi i motivi le implicazioni di questa scelta alcune persone mi domandano come mai l'italiano invece di una lingua indiana una lingua più vicina più somigliante a te la risposta breve sarebbe scrivo un italiano per sentirmi libera ma mentre presento il libro durante interventi e interviste mi trovo ripetutamente costretta a difendere a convalidare questa libertà a fornire una chiave a dipanare la questione ritengo però che a in altre parole non serve una chiave se non il libro stesso ho iniziato con una metafora che mi ha condotta a un'altra e poi a un'altra ancora il ragionamento si articola così paragono il mio lento ma cociuto apprendimento dell'italiano a un lago da attraversare a un muro da scavalcare a un oceano da stondare a un bosco un ponte un bambino un amante un golfino un edificio un triangolo se all'ultima pagina del libro come mai l'italiano resta incomprensibile allora è colpa mia ora il mio primo tentativo di scrivere in italiano è alle spalle ho iniziato a farne un altro di tanto in tanto tuttavia mi viene in mente una nuova metafora per approfondire la questione anche ora che non le cerco più nei giorni immediatamente precedenti all'uscita del libro mentre mi preparavo a discuterne in pubblico ho scoperto tre nuove metafore che considero particolarmente feconde ambigue suggestive se fosse stato possibile mi sarebbe piaciuto aggiungere altri tre capitoli in altre parole approfitto invece di questo discorso per parlarne per scrivere una sorta di epilogo esterno per le ultime metafore tutte e tre sono debitrice alle mie letture in italiano mi vengono da due autrici entrambe forti punti di riferimento per me una è scomparsa l'altra ancora vivente una era poco conosciuta fuori dall'Italia e l'altra è ormai famosa anche all'estero benché nessuno sappia chi sia una l'ho scoperto solo recentemente l'altra molti anni fa sono due scrittrici italiane con due stili decisamente diversi la prima è l'alla romano la seconda Elena Ferrante ho cominciato a leggere l'alla romano circa sei mesi fa non l'avevo mai sentita nominare prima di venire a vivere in Italia ho saputo di lei grazie a un articolo pubblicato sulla stampa scritto da un mio amico Paolo di Paolo non è facile trovare le opere di l'alla romano in libreria ma Paolo di Paolo ha fatto da tramite tra me e Antonio Ria il secondo marito dell'autrice il quale mi ha gentilmente mandato un bel pacco di libri ho letto in fila d'un fiato nei mari estremi Maria inseparabile l'ospite la parole tra noi leggere sono rimasta subito impressionata dalla forza singolare della sua scrittura tesa meditativa sofferta mi ha colpito profondamente il suo stile asciutto essenziale ho ammirato le frasi concise i capitoli brevi il linguaggio distillato la sera prima di presentare in altre parole per la prima volta a Venezia stavo leggendo il primo libro in prosa di Lalla Romano intitolato le metamorfosi pubblicato nel 1951 mi ci sono ritrovata fin dal titolo che avevo usato per uno dei capitoli una delle metafore del mio libro quest'opera di Romano essenzialmente il racconto di una serie di sogni rappresento per lei un punto di svolta definitivo segnando il suo passaggio dalla pittura alla scrittura da un mezzo di espressione a un altro mi ci sono ritrovata anche per questo aspetto alla fine della quarta parte l'autrice racconta un sogno che si chiama le porte che riporto per intero qui sotto lei scrive la porta non è ancora chiusa però sta per chiudersi uno dei battenti alto e massiccio ricade lentamente sull'altro corro e riesco a passare di là c'è un'altra porta uguale alla prima anche questa è sul punto di chiudersi anche questa volta correndo riesco a passare ce n'è ancora un'altra poi un'altra occorre molto prontezza per arrivare in tempo tuttavia spero che potrò sempre passare dal momento che nessuna potrà porta e chiusa ma bisogna continuare a correre e io sono sempre più stanca comincio a perdere le forze le porte si presentano una dopo l'altra tutte uguali posso ancora passare ma è inutile ci sarà sempre ancora una porta il sogno di Romano mi pare effettivamente un incubo esistenziale racconta un cammino cupo frustrante disagevole suggerisce un processo disorientante estenuante descrive un senso di sgomento di disperazione e infine di sconfitta le porte rappresentano uno sforzo continuo un tragitto senza sosta la condanna di trovarsi sempre in attesa all'esterno in una specie di purgatorio questo paragrafo questo sogno mi ha fatto riflettere a lungo rispecchia in maniera straordinariamente lucida il mio percorso verso l'italiano sia il lato emozionante sia quello angosciante da più di vent'anni da quando mi sono immersa in questa lingua da quando me ne sono innamorata fatico ad aprire una serie di porte più riesco a passare più se ne presentano altre da aprire da superare l'approfondimento di una lingua straniera un andamento asintotico procede così per conquistare qualsiasi lingua straniera ti insegnino che bisogna aprire due porte principali la prima è la comprensione la seconda la lingua parlata in mezzo ci sono delle porte più specifiche altrettanto rilevanti la sintesi la grammatica il lessico le sfumature il significato la pronuncia a quel punto è praticamente finito nel mio caso ho osato aprire una terza porta principale la lingua scritta con lo studio man mano la porta della comprensione si spalanca la lingua parlata a parte l'accento straniero e qualche storpiatura qua e là si apre anche lei facilmente la lingua scritta la porta sicuramente più formidabile resta socchiusa siccome riesco a pensare e scrivere in italiano solo a 45 anni siccome busso a questa porta abbastanza in ritardo scricchiola un po' benché mi accolga osserva orari strani e imprevedibile più scrivo in italiano più mi sento in subuglio sospesa fra la mia vecchia conoscenza dell'inglese e la prossima porta che mi sta davanti ogni tanto temo che la prossima porta sarà sprangata scrivere in un'altra lingua rimette in gioca l'angoscia che provo da sempre per il fatto di essere tra due mondi di essere tenuta fuori di sentirmi sola esclusa faccio riferimento a una porta anche nel libro è quella della nostra prima casa romana che una sera la nostra seconda sera a Roma si è rifiutata di aprirsi è stato un momento assurdo un incubo il significato del quale è probabilmente troppo palese ma che comprendo pienamente solo ora ogni porta ha un doppio aspetto un doppio ruolo da un lato funge da barriera dall'altro da ingresso le porte mi spingono ad andare sempre avanti che meraviglia che in italiano l'etimologia della parola porta venga dal venga dal verbo portare che significa sollevare perché Romolo nel tracciare le mura della città con un aratro lo sollevava proprio nel luogo dove sarebbero state costruite le porte sebbene una porta resti qualcosa di concreto inanimato la radice implica un gesto decisivo dinamico affrontare una lingua straniera da adulta non è una passeggiata eppure tutte le porte che ho dovuto aprire in italiano si sono spalancate su una veduta ampia splendida profonda non è che la mia conoscenza dell'italiano mi abbia semplicemente cambiato la vita mi ha regalato una seconda vita una vita in più ogni nuova parola che incontro che imparo che elenco sul taccuino costruisce per me una piccola porta il mio dizionario dell'italiano d'altro canto mi sembra un portone considero porte i libri che leggo le frasi che scrivo i testi che porto a termine e ogni conversazione con un mio amico italiano ogni occasione di esprimermi credo che l'italiano sia una porta più inclusiva che esclusiva altrimenti non mi sarebbe stato possibile realizzare in altre parole detto questo perfino oggi quando scrivo in italiano mi sento in colpa per aver forzato una porta che non avrei dovuto aprire questa nuova lingua mi ha trasformata in una scassinatrice è questo l'effetto straniante della domanda come mai conosci parli scrivi nella nostra lingua l'uso dell'aggettivo possessivo nostra sottolinea il fatto banale ma doloroso che l'italiano non è mio il processo di scrivere e pubblicare un libro in italiano implicava aprire ancora un'altra serie di porte tutte le persone con cui ho lavorato discusso corretto e pulito il testo davanti ogni porta ogni persona ho dovuto chiedere posso scrivere questa frase usare queste parole combinarle così ossia posso superare il confine tra me e l'italiano posso entrare ora che il libro esiste le porte che vedo davanti a me sono i miei lettori tocca a loro aprire la copertina leggerlo alcuni accetteranno le mie parole alcuni mi accoglieranno altri no questo destino incerto per un libro è normale anche giusto ogni volume ogni volta pubblicato in qualunque lingua sia scritto si trova su questa soglia leggere vuol dire aprire letteralmente un libro ma anche al tempo stesso una parte di sé non voglio vivere pensare scrivere in un mondo senza porte un'apertura incondizionata senza complicazioni senza ostacoli non mi stuzzica un paesaggio del genere senza spazi chiusi senza segreti senza la presenza dell'ignoto sarebbe privo di senso privo d'incanto per me la seconda metafora di cui voglio parlare nasce anch'essa grazie all'alla romano non dal suo primo libro ma dall'ultimo il volume intitolato diario ultimo è una raccolta postuma di pensieri appunti e ricordi che l'autrice ha scritto negli ultimi anni della sua vita quando era diventata quasi cieca annotava grandi folli bianchi in una calligrafia quasi illegibile non sapevo nulla di questo testo neanche della cecità il libro mi è stato regalato a Milano nella casa della scrittrice da Antonio Rio ero seduta nel soggiorno di Lala Romano circondata dalla sua biblioteca e dai suoi quadri appena ho saputo che aveva scritto un libro quando era quasi cieca mi sono sentita ancora più vicina a lei diario ultimo è un testo intimo frammentario è una testimonianza sconvolgente della necessità di esprimersi e di identificarsi attraverso le parole e anche di superare un limite Romano scrive quasi cieca in maniera ancora più lapidaria e trasparente si tratta di una visione da un lato compromessa approssimativa e dall'altro acuta fulminante sapevo già che scrivere una nuova lingua somiglia a una sorta di cecità scrivere non è altro che percepire osservare visualizzare il mondo riesco ormai a vedere in italiano ma solo parzialmente devo brancolare nella semioscurità io come romano scrivo con mano incerta la rivelazione di ultimo diario è la nuova prospettiva che la cecità conferisce finché non ho letto questo libro chiedevo scusa per la natura limitata del mio italiano sia ai miei lettori sia a me stessa poi Romano mi ha rivelato una cosa la mia quasi cecità uguale un punto di vista è la risposta che cercavo fin dall'inizio per poter giustificare la mia scelta dell'italiano scritta così la stringata dichiarazione di Romano si presenta come un'equazione una formula mi fa capire anche apprezzare che lo svantaggio di non poter vedere vedere chiaramente interamente può illuminare il mondo in maniera diversa può permettermi nonostante la distanza di toccare il fondo delle cose come per Romano la cecità non mi impedisce di pensare anzi è uno stimolo io come lei non vedo quello che scrivo come spiego nel libro non sono capace di valutare la mia scrittura in italiano perciò resta cieca anche il riguardo al risultato eppure la cecità mi rende più vigile più agile nulla mi viene naturale devo sempre farmi le ossa sono d'accordo con Romano quando scrive nei margini si trovano le possibilità paradossalmente credo di essere cieca anche in inglese ma al contrario la dimestichezza la destrezza la disinvoltura possono causare un'altra sorta di cecità si tende a restare al sicuro più passivi perfino pigri riesco a scrivere in inglese a occhi chiusi senza dover esaminare quasi nulla mentre in italiano devo per forza scrutare ogni parola bisogna precisare che la cecità per Romano era una sofferenza fisica mentre la mia è una cecità figurata resta un gioco creativo perfino un privilegio e mentre la sua infermità subiva un peggioramento progressivo io col tempo con l'esperienza spero di vedere meglio quando scrivo in italiano preferisco che le conseguenze della mia percezione ridotta siano evidenti non voglio limare troppo il testo non voglio dare al lettore l'illusione di una visione totale altrimenti scriverei in inglese so che l'angustia del mio italiano dà fastidio ad alcuni lettori può essere seccante seguire ascoltare qualcuno cui manca una vera competenza ma può essere anche ma può essere anche sorprendente spiazzante come mai l'italiano per sviluppare un altro paio di occhi per sperimentare questa debolezza l'ultima metafora è una parola che ho scoperto mentre leggevo La figlia oscura il terzo romano di Elena Ferrante pubblicato nel 2006 Ferrante è uno dei primi autori italiani che ho letto direttamente in italiano che sono riuscita a capire bene mi colpiscono la sua voce franca e potente i suoi temi inquietanti i suoi personaggi femminili ammiro il suo vocabolario svalordativo grazie al quale spero cresca anche il mio tra le nuove parole che ho sottolineato mentre leggevo La figlia oscura c'era Innesto La protagonista di questo breve romanzo è una madre che ha un rapporto complicato e conflittuale con le sue due figlie A un certo punto le abbandona poi ritorna Questa donna si sente disturbata dagli aspetti delle proprie figlie che lei trova antipatici dallo scarto genetico tra loro e lei Ferrante scrive Anche quando riconoscevo nelle due ragazze quelle che consideravo le mie qualità sentivo che qualcosa non funzionava Avevo l'impressione che non sapessero farne un buon uso e che la parte migliore di me nei loro corpi risultasse un innesto sbagliato una parodia e mi arrabbiavo mi vergognavo Leggendo il brano ho intuito il significato della parola ma l'ho controllata comunque nel dizionario Conoscevo già il termine equivalente il concetto di innesto in inglese graft ma non conoscevo la parola in italiano Probabilmente non mi avrebbe colpito così tanto se non l'avessi incontrata nel romanzo di Ferrante perché lei non parla di un innesto riuscito bensì di un innesto sbagliato una giuntura imperfetta un falimento ecco l'ultima metafora per in altre parole quella forse più capiente completa prima di commentare il concetto di innesto mi permetto di approfondire la definizione le connotazioni di questa parola è un termine innanzitutto botanico descrive un sistema di propagazione un'operazione attraverso la quale si ottengono frutti migliori oppure una nuova varietà da un innesto dunque nasce qualcosa di originale di ibrido può essere sfruttato anche per correggere difetti di sviluppo cioè per migliorare una specie per renderla più forte resistente un innesto è un atto di inserimento introduce un alimento in un altro per poter riuscire prisoppone un'affinità tra gli alimenti in gioco necessita di un collegamento una fusione una saldatura implica un incastro in quanto trapianto un innesto richiede uno spostamento un taglio risulta idealmente una trasformazione quasi magica è un termine magnifico per descrivere quello che faccio in italiano è pregno di sfumature psicologiche politiche creative sembra che questa scelta da parte mia di scrivere in italiano sia sbucata dal nulla ma non è così la mia vita non è altro che una serie di innesti uno dopo l'altro sono io stessa frutto di un azzardato innesto geografico culturale scrivo fin dall'inizio di questo tema questa esperienza questo trauma non conosco altro l'innesto mi spiega mi definisce e ora che scrivo in italiano sono diventata un innesto anch'io provo da scrittrice a innestarmi in una nuova lingua mi rendo conto della fessura tra me e l'italiano e dell'operazione che ho fatto apposta attraverso la mia scrittura per vincolarci temo anch'io come la tormentata madre di Ferrante che il frutto sia un innesto sbagliato ma una lingua perfino una lingua straniera è qualcosa di talmente intimo che entra comunque dentro di noi diventa una parte del nostro corpo della nostra anima si radica nel cervello esce dalla bocca col tempo si annida nel cuore l'innesto che ho fatto mette in circolo un nuovo idioma nuovi pensieri dentro di me questa parola mi fa avanzare ma racconta anche il mio passato il mio punto di origine tutta la mia traiettoria definisce il nuovo libro italiano ma anche quelli precedenti scritti in inglese ho scritto un libro in cui il protagonista cambia il proprio nome racconto degli immigrati che cambiano paese che trasformano le proprie realtà uno straniero che arriva da altrove che impara una nuova lingua che lavora e contribuisce a una nuova società che si integra questa persona non fa altro che un innesto per via dell'innesto nonostante lo strappo si può trovare la propria strada il concetto di innesto è un modo di capire un impulso umano universale spiega il motivo per cui ognuno di noi cerca altro e di più e spiega anche il meccanismo si può cambiare città cittadinanza corpo viso sesso famiglia religione attraverso l'innesto possiamo rifiutare le nostre origini oggi più che mai benché un innesto sia un processo naturale il risultato può essere percepito come forzato bislacco poco autentico chi lo subisce o chi lo opera o chi lo opera anche su se stesso è visto con sospetto per andare avanti per sviluppare una società una civiltà è necessario cambiare la fonte di nutrimento ecco perché cito Nathaniel Hawthorne il grande attore americano che cita all'inizio di La Nuova Terra la natura tale quante una patata si rifiuta di fiorire se piantata e ripiantata per un susseguirsi troppo lungo di generazione nello stesso suolo eccessivamente sfruttato una lingua una persona un paese tutto si rinnova solo grazie a un contatto un avvicinamento una mescolanza con l'altro ammetto sempre che l'italiano non è la mia lingua e che è una lingua adottata che amo e uso senza averne un possesso ma ora mi viene da chiedere chi possiede una lingua e perché viene dalla stirpe dalla padronanza dall'uso dall'affetto dall'attaccamento cosa vuol dire alla fine appartenere a una lingua un innesto può salvare la vita ma la prima fase dell'innesto è caratterizzata da fragilità e piena di incertezza può essere sfortunato e il frutto inesistente o amaro bisogna avere fiducia e pazienza bisogna sperare che vada bene che col tempo cresca un nuovo ramo nel mio caso come scrittrice e come persona che cresca una nuova varietà di me ora che sono inestata nell'italiano mi preoccupo mi prodigo per rafforzare la connessione ecco perché continuo a leggere il dizionario ogni giorno a elencare nuove parole sul taccuino e interrompere un amico se usa un termine che non riconosco ecco perché ho paura di lasciare l'Italia temo che l'innesto non sia abbastanza sicuro e che non possa sopportare una nuova rottura resto consapevole dell'intervento dentro di me della fusione della vita precedente con quella attuale dello snodo tra il passato e il futuro giusto o sbagliato riuscito o fallito per ora l'innesto continua come mai l'italiano per aprire le porte per vedere diversamente per innestarmi in altro tutto qui grazie 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 passiamo quindi adesso alla consegna della laurea al conferimento della laurea io magnifica elettrice viste le deliberazioni del consiglio di dipartimento di ateneo per la didattica e la ricerca e del senato accademico rispettivamente nelle sedute del 9 luglio 2014 e del 30 luglio 2014 vista l'approvazione del ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 169 del testo unico del 31 agosto 1933 numero 1592 conferisco a Giun Palahiri nata a Londra Regno Unito la laurea honoris causia in lingua e cultura italiana per l'insegnamento agli stranieri e per la scuola grazie a lei grazie Grazie. E la ringrazio per le belle parole che ha avuto per la nostra lingua, una lingua che è diventata un po' anche sua, anche se non è di nessuno, come ci ha appena detto, perché una lingua non la possiede, non la possiede nessuno. La ringrazio per aver scelto la nostra lingua come lingua della libertà, come lingua scelta anche per essere liberi di sbagliare, come lingua del contatto che attraverso l'innesto, attraverso il suo uso, adesso si sta ricreando. Grazie. Voglio consegnarle anche un sanese, un sanese d'oro. Il sindaco di Siena lo sa bene, il sanese d'oro è un'antica moneta senese. Siena è una delle città nelle quali lei ha iniziato questo percorso di avvicinamento alla nostra lingua e è bellissimo. Lei ha parlato della metafora della porta. Nella porta di Siena, più vicina alla nostra università, c'è una scritta sopra che dice Core Magis TV Siena Pandit. Siena ti apre un cuore ancora più grande. È questo che noi abbiamo fatto con lei questa sera. Grazie. Grazie. Ringrazio anche tutti voi per essere stati con noi in questa bellissima serata. Grazie. 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 Grazie.